adesso Alessandro Gridel la battuta corta Bertoni scambio corto tra i due c'è il gol ma da dove ha tirato posizione impossibile per Alessandro Gridel che trova una gemma autentica è un gol pesantissimo 12 e 20 sul cronometro Hagman che accorcia le distanze realizzando a questo punto il 5 a 3 Grazie a tutti